Ciao ragazzi, ben ritrovati! Seconda parte del video sull'hot tent camping, sul campeggio con tenda e stufa questa volta parleremo delle norme di sicurezza. Gran parte delle domande sull'hot tent camping che ricevo riguardano la sicurezza è pericoloso, c'è il rischio che prenda fuoco la tenda, c'è il rischio di respirare monossido di carbonio e via dicendo la mia opinione è che il campeggio con tenda e stufa non è pericoloso se viene fatto con attenzione e con buonsenso ora vi spiego quali sono le prassi di sicurezza che seguo io nelle mie uscite e spero di potervi dare delle informazioni utili. Ad ogni modo non state a sentire solamente quello che dico io documentatevi a fondo, prendete sempre le informazioni da più fonti e fate delle prove a casa prima di avventurarvi a passare la notte in posti isolati. Se non avete visto la prima parte vi consiglio di andare a recuperarla ora in modo da poter comprendere per bene tutto quello che dirò tra poco, il link lo trovate qui sotto in descrizione prima regola per un campeggio sicuro, montare tutto correttamente. Vedo delle cose in giro terribili che a me sinceramente mettono un po' d'ansia tende flosce, pali storti, stufe montate in discesa, non mi piace. La tenda deve essere ben ancorata al terreno e ben tirata su tutti i lati utilizzate tutti i tiranti disponibili. Considerate che se piove o se nevica il tessuto si bagna e si smolla un po' eventualmente aggiustate la tensione. Alcune tende hanno un anello in cima che consente di agganciarle a un cordino teso tra due alberi. Io non utilizzo mai questa modalità se sono con la stufa perché il cordino potrebbe sganciarsi e far collassare tutta la tenda sopra la stufa accesa e non è bello. Metto il palo centrale perché secondo me è molto più sicuro e conferisce alla tenda la stabilità e la solidità adeguate. Anche la stufa deve essere montata per bene, deve poggiare su una superficie piana e stabile. Sulla neve non è facile, prendetevi il vostro tempo per fare le cose per bene. La canna fumaria deve essere ben innestata dentro la stufa, deve essere perpendicolare al terreno, va sempre inserito il parascintille che come vedete ha queste asole che servono per assicurare a terra la canna fumaria stessa e tenerla in posizione in caso di vento. I tiranti devono rimanere morbidi in modo da mantenere la canna fumaria al suo posto ma nello stesso tempo permettere anche delle piccole oscillazioni. Meglio non tirare troppo perché il tubo è lungo e sottile e potrebbe piegarsi specialmente quando è molto caldo e si ha delle ammaccature. Sempre in riferimento al montaggio è buona norma mantenere le varie distanze di sicurezza sia all'interno che all'esterno. La stufa deve essere sufficientemente distante dalle pareti della tenda. Io la posiziono in questo modo anche perché così è più comoda da alimentare. Magari qui sotto do una pulita, evito che le foglie secche o altro materiale infiammabile possano entrare in contatto con il metallo rovente. Lo sbucco della canna fumaria deve essere ben al di sopra della sommità della tenda. Una distanza consigliata che ho trovato in rete è di almeno 60 centimetri. Questo perché se escono delle scintille hanno il tempo di spegnersi o di essere portate lontano dal vento prima di arrivare alla tenda. Il parascintille va sempre utilizzato così come la valvola posta alla base della canna fumaria se fosse necessario. Purtroppo questi dispositivi non sono bacchette magiche, qualcosa scappa sempre. Io ho già fatto qualche buchetto nella tenda per cui mi consiglio di non utilizzare legno che scuppietta e di non smucinare dentro la stufa quando il fuoco è acceso. Parliamo un attimo della ventilazione. La ventilazione è necessaria per far funzionare la stufa la quale ha bisogno di prelevare ossigeno dall'esterno per mantenere il fuoco acceso. Io tengo sempre qualche centimetro di spazio qui sotto in modo che l'aria fresca possa entrare. Ovviamente le prese d'aria della tenda sono sempre aperte. Anche il buco dello stop jack è largo in modo che qui intorno circoli dell'aria che dissipa un po' del calore della canna fumaria. Molti sono convinti che quando si utilizza una tenda riscaldata bisogna tappare tutto per mantenere la temperatura. A parte che come ho già detto è necessario che entri dell'aria fresca altrimenti la stufa fa fatica ad andare. Ma poi per esperienza posso dirvi che una volta che la stufa è partita e si è scaldata a dovere, dentro la tenda si scoppia, si arriva a temperature di 40-45 gradi quindi non sarà un po' di spiffero che viene da sotto a guastarvi le feste. Io di solito copro con delle foglie secche il lato in cui dormo giusto per non farmi arrivare addosso gli spifferi durante la notte. Il resto del perimetro lo lascio libero. Non va mai lasciata la stufa accesa incustodita quindi meglio non allontanarsi troppo dal campo mentre la stufa è accesa e meglio lasciare che il foglio si spenga prima di andare a dormire o almeno io faccio così. Come vi ho già spiegato in precedenza non faccio affidamento sul fuoco per scaldarmi mentre dormo. Ho un materassino, ho un sacco a pelo con temperatura comfort di meno 6 uso quelli. Anche perché la stufa anche se la imbottite di legna cosa che io vi sconsiglio di fare dura al massimo 15-20 minuti poi si spegne e la temperatura rapidamente ridiscende allo stesso valore di quella esterna. Se dovessi buttare legna dentro ogni 20 minuti non dormirei, passerei la notte in bianco. Uso la stufa per scaldarmi il pomeriggio quando fa buio per avere un ambiente confortevole dove cenare, dove leggere qualcosa dopo cena. Poi quando è il momento di andare a dormire la lascio spegnere così mentre dormo sono tranquillo. Queste sono le norme di sicurezza che io utilizzo per evitare di combinare casini quando vado a campeggiare con tenda e stufa. Come ho già specificato nella prima parte del video io non sono un esperto di hot tent camping, lo pratico solo da un paio di inverni, quindi sicuramente ci saranno delle cose che possono essere aggiunte al mio discorso. Ripeto, documentatevi, preparatevi, svolgete tutte le prove del caso e usate la massima cautela quando siete fuori. Fatemi sapere se questa mini serie di video vi è stata utile, se avete delle domande postatele qui sotto nei commenti e cercherò di rispondervi come meglio posso. Vi lascio anche qui in schermata finale la prima parte del video, andatela a recuperare se ve la siete persa. Grazie per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.